Ha cercato di sventare una rapina, ha trovato invece la morte. Ucciso in un conflitto a fuoco l'appuntato dei carabinieri Tiziano della Ratta, 35 anni, che era intervenuto insieme al collega, al maresciallo Domenico Trombetta, 38 anni, dopo una segnalazione di una rapina in atto in una gioielleria ieri pomeriggio a Maddaloni, in provincia di Caserta. La sparatoria è avvenuta poco prima delle 17, nel popoloso centro casertano della Ratta, carabinieri della locale Compagnia di Maddaloni e il maresciallo Trombetta, sono intervenuti per sventare la rapina. Trombetta è rimasto ferito ma fuori pericolo di vita, così come due malviventi della banda criminale, tra cui una donna, che sono stati arrestati e piantonati in ospedale di Caserta. Per Della Ratta, invece, non c'è stato nulla da fare. I complici dei delinquenti, presumibilmente altre due persone, si sono dati alla fuga a bordo di una Fiat Uno Bianca. I militari avevano cercato di bloccare i rapinatori in via Ponte Carolino, ma hanno dovuto reagire agli spari dei malviventi. Della Ratta, originario di Sant'Agada dei Goti, lascia la moglie e il figlio a letto di appena un anno. A coordinare le ricerche degli altri rapinatori è il comandante provinciale dell'arma dei carabinieri Giancarlo Scafuro, che è giunto subito sul posto dopo la sparatoria. In tutta la provincia di Caserta sono stati istituiti diversi posti di blocco, impiegati anche due elicotteri. Sull'episodio è intervenuto con una nota ufficiale il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che ha inviato un messaggio di cordoglio al comandante generale dei carabinieri, Leonardo Gallitelli.